Ci troviamo allo Zail in Qatar per la presentazione stampa internazionale dalla nuova Honda Fireblade CBR1000RRR in versione SP ovviamente, qui si stanno dando le ultime lucidatine alle moto e tra poco siamo pronti per entrare, vediamo come va questa moto. Grazie a tutti. test concluso qui all'osail la cbr 1000 rr 2020 è veramente una bomba è cambiata veramente tanto e onda è andata anche un po contro la sua filosofia di moto sportive che devono essere anche stradali questa è una vera bomba da pista ma troverete tutto sul prossimo numero di superbike italia medicola a marzo andate a comprarlo allora lui non è che capisce tanto ma quello che ha detto è vero se lo dice il cordara se lo dice il cordara no no è che se lo dico io è vero è vero ci fidiamo ci fidiamo